Salve a tutti gente, io sono Gabriel Ceus e un mio amico qui vicino è... Zozzeria1 Bene, allora nella scorsa parte ci siamo lasciati in questo modo Con un teppic mezzo morto e una lampadina Che probabilmente verrà buttata nel cassonetto Allora, Tuda aspetta, adesso arriverà il nostro rivale accompagnato dalla camorra Adesso sbatterà i piedi E ci dirà che nell'erba alta, quella più scura, troveremo dei Pokémon più forti O una alta in doppio, ma comunque con dei Pokémon più forti che non nell'erba normale Allora, avevo fatto una promessa In cui dicevo che avrei buttato un accesso fluffy Cioè, mare Puttana E al suo posto avrei preso un fantastico magne Ma hai chiamato... Aspetta, hai chiamato il tuo rivale come un sasso Sì, perché? Strana una cosa Beh, i rivali stanno sempre fermi lì e non fanno un caso Potrei chiamarlo in un altro modo No Ok Potrei chiamarlo Settembre Non ci stava Poi per cui è Settembre 2012, è già nel cestino Perché c'è lì? Questa cosa ne fai Potrei chiamarlo Settimana Non è via Per quello di i giorni Vedi, sabato e domenica Tu l'hai chiamato? Sesso Ok, bene, abbiamo mandato K.O. un Pokémon È stato fin troppo semplice La mia pronuncia è davvero pronunciabile Allora, adesso dovremmo essere obbligati a lottare contro queste bambocce Queste bambocce Faranno parte del Team Rocket Del Team Bambocce Perché solo a livello 2 stai senti? Oh, porca miseriazza Che sasso È estremamente forte Stai attento di far fare una colpa sola Oh, sono io colpa sola per un colpisco 5 punti esperienza Non ci posso credere ragazzi È un traguardo spettacolare Dipende dai punti di vista Sì, in effetti Allora, prendiamo un super colpo Vediamo Notate che l'erbetta si muove Ok, adesso saremo obbligati a fare una lotta in dubbio Allora, non appena arriveremo alla prossima città Andremo subito a catturare un Marnite Lo sostituiamo con Marep E andiamo subito ad allenarlo Dopodiché Fuori dalle parti Incrementerò il livello della mia squadra Che c'è? Incremento il livello della mia squadra E così facendo Potrò Andare più fluidamente Senza perdere troppo tempo Io sono io Io sono qua No, con la mano No, con la mano E' brutto Guardate brutto Come si vuole Ma tanto Metto soltanto lo schermo sopra Allora, metti quello sopra No, mi sono stufato di mettere quello sopra Perché faceva cagare Cioè, ma di tu Chi di cui mi doveva assorbire ero io Vabbè Vabbè, chi doveva assorbire Teppico Ovviamente Il proprio compagno di squadra Mi sembra più che logico Logicamente Logicamente parlando Allora Otteniamo 32-38 merdosi punti esperienze Sarà e andiamo Perché non tiene così pochi Beh, ma perché c'è Un Sunker ma al livello 9 Un Sunker Cioè, il Sunker è il Pokémon Più scarso della Terra C'è anche quello con il valore statistico Più basso Sì Però Boh, non siamo stufati Abbiamo ottenuto una Megaball ragazzi Una cosa Oscena Perché E' una Megaball E' mega Puoi mettere un Ultra Ed è Primavera ragazzi Oggi 3 settembre 2012 E' Primavera Anche se lo era già dal primo Eh, lo so Notare il Poche Poche Questo l'ho letto in cinese In giapponese Non so Capito niente Adesso capite C'è un complesso dove suonano Ok, bene Si suonano Sono complesso E adesso qua Parleranno In modo Osceno Allora Ragazzi Io le mie guide Le faccio soltanto per fare Dei video per il mio canale Un favore per voi Intendo Mi intendo Intendo Mi intendo No Sono me Ma tanto Non è che lo faccia per essere Quello che fa le guide migliori Così Perché tanto Su Youtube Già dal primo giorno di uscita Del gioco In Giappone addirittura C'erano già le La guida completa C'era già Che c'era tipo Un tale Giancarlo Primango Che Non lo so Che aveva fatto una guida Tipo Durava 6 ore a parte Tipo 6 ore 6 ore a parte Ed erano Ed era di 3 parti In cui lui aveva fatto Tutto il gioco Complesso 18 ore Per fare il gioco No Non proprio 6 ore Ah Ok Una magari durava 4 E c'è tipo Questa è una guida un po' inutile Perché Ci sono tanti altri youtubers Che la fanno Sì Prego Volevi dire qualcosa Sì Come i miei video Su San Andreas Ormai tutti hanno San Andreas Possono fare Queste cose che faccio io Sì Non so perché mi hanno Blocco Sai che mi hanno bloccato il video Grove Street Sì Solo per dei maledetti Cupirati Notare che Ti è comparso un po' No Volevo far notare Che l'erba adesso È molto più verde ricogliosa È verba Vabbè Una pronuncia davvero pronunciabile È abbastanza forte Forte dai sunkerni Ma gli allenatori che hanno dei sunkerni in questo modo Non si vergognano Vanno nel percorso dopo E trovano delle persone più forti E poi I capi palestra Per esempio Alla fine Io ho già finito il gioco Sull'R4 Ma c'è questo team Plasma Che ha dei pokemon forti Allora i capi palestra Non riescono a fermarli Ma non possono chiamare Quelli della lega Che hanno i pokemon Nettamente più forti No Loro devono No Quelli della lega Stanno alla lega Si fanno le frazze Troppi E se ne stanno Perché sto cercando Uvino Perché stavi cercando Un uomo nascosto di liquide No Porca miseria A livello 13 Porca miseria Si Prima di buttarlo giù Boh ci vogliono un bel po' di colpi Perciò ragazzi Metto in pausa E quando ho finito No Ok ragazzi L'abbiamo mandato K.O Ed è salito a livello 15 È stata una lotta davvero noiosa Dal momento che lui era a livello 13 Era addirittura più veloce di noi Zotteria 1 Si è già addormentato Mi dispiace per lui Cosa c'è? Ah aspettate un attimo ragazzi Mi chiamano Problema risolto Niente di che Queste Per un audino Sei morto? Che puttanata è successo? Non lo so Ah non chiedete È buggato il gioco Che dire Avevamo i pokemon in piena salute Ma il gioco si è buggato Incredibile Mai così Vabbè Non dico niente Ragazzi ragazzi Adesso torniamo Per questo Adesso dobbiamo cercare un maledettissimo pokemon Mi sa che dovrò cambiare la roma Perché un tantino ha buggato Perché si vedono i PS dell'avversario Cosa cavolo sta succedendo Ok Cosa cavolo è fatto Avevo messo in pausa e basta Poi avevo toccato un cinquantabili a mille giorni di mod Ok Vabbè E comunque sia È proprio una roba No boh ma dai può andar bene Visto che adesso Beh speriamo di non crepare adesso Cioè Come prima che è successo con l'avversario Vabbè Boh comunque sia È un bug a nostro vantaggio Tipo ci fa vedere I PS dell'avversario Non so Che importanza abbia Visto che potresti benissimo Intuire dalla barra Non sei lo spavolo Io non sono mai stato Ma dai Mi cazzo CJ 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 Ok ragazzi Adesso cercheremo un Coffin No Ma che bello 28 PS solo Eh ma è un Coffin Ci potrebbe avere tante eliminare E se io fugo? Sì Ti scorrezi in pazza Oh bene Bene Ragazzi non fateci caso Le bellissime battuti Zazzeria 1 Sopra Vediamo Patriarcato Ok ragazzi Per questioni di tempo Metto in pausa ancora il video Ok ragazzi L'abbiamo trovato Incredibilmente lui Cominciamo col Oh cacchio no Vabbè io tenterei Di fare un tentativo Così alla buona Sì dai Che potrebbe senzio Sapete che Su Pokemon Mania C'è stato un Aronatizia Che diceva di aver catturato Arceus Al primo colpo Con la Pokemon Però dopo ha regalato la Master Ball A Sassarina Quello non bisognava fare Dai che lo prendiamo Nooo Già preso dai Come trovare la carta di Tornado In un pacchetto solo Sì è vero Zazzeria 1 Ha preso un pacchetto In quell'unico pacchetto Indovinate chi ha trovato Tornados E già un Pikachu d'oro Bene ragazzi Che veniamo Un Pikachu d'oro Per questo Per questa parte Può bastare Dì già Dura E beh certo Guarda quanto tempo è passato Sono già passati Undici minuti Pensa a te Contento te Ah sì Allora bene Prego Nella prossima parte Farò evolvere Tepig Lo farò diventare Una pigna Batterò a tutti gli allenatori E andrò avanti Per non appesantire Troppo la mia guida Perché altrimenti Mi viene troppo lunga E pallosa Spero che questa guida Non sia stata troppo pallosa Mi raccomando Iscrivetevi intanti Al nostro canale Perché Perché dissi Perché dissi Comunque ciao a tutti E buon fine vacanza Ciao a tutti